La seduta del 3 dicembre Il Consiglio regionale ha sostenuto un acceso confronto sulle dimissioni dei consiglieri PD e UDC dagli incarichi istituzionali. L'Aula ha poi commemorato l'ex Presidente del Consiglio regionale e della Giunta Aldo Viglione a 25 anni dall'incidente stradale in cui perse la vita. Nel pomeriggio è ripresa la trattazione del provvedimento sulla caccia. In una pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione per la salvaguardia della linea ferroviaria Cuneo-Nizza. Progetto Non Gioco Vinco Presentato a Palazzo Lascaris il progetto di educazione alla legalità Non Gioco Vinco, iniziativa contro il gioco d'azzarto rivolta alle scuole medie. Sono intervenuti Tullio Ponso, consigliere delegato all'Osservatorio regionale sull'usura e Giada Versaci per Libera Piemonte e ACMOS che collaborano alla realizzazione del progetto. Sotto 18 Film Festival La manifestazione, organizzata da Iace con il sostegno del Consiglio regionale, giunge alla quattordicesima edizione e si conferma un appuntamento culturale di qualità rivolto all'universo giovanile. In questa occasione viene assegnato il premio Consulta regionale dei giovani al miglior prodotto filmografico degli istituti scolastici superiori piemontesi. Il Liceo Cottini ha 70 anni dalla liberazione La figura di Renato Cottini, scultore e partigiano torinese, è stata al centro dell'incontro organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Istituto Scolastico e Lampi di Torino, presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Statale, a lui dedicato a Torino. Nella cerimonia è stata scoperta la targa commemorativa dedicata allo scultore e intitolata all'Aula Magna a Luigi Viano Bellandi, comandante della 6a Divisione Alpina Giustizia e Libertà, primo preside del liceo. I maestri dell'incisione Le opere grafiche di alcuni grandi artisti del 5-600 sono esposte fino al 21 dicembre a Palazzo Cisterna a Torino, in una mostra promossa dall'Istituto per la tutela dei beni librari e cartacei, sostenuta anche dal Consiglio regionale del Piemonte. In esposizione 60 fogli incisi di Dürer, Leida e Rembrandt, che raccontano in immagini la vita e la società con straordinaria efficacia comunicativa. Grazie a tutti!